Cari amici, oggi io vi parlo da Pedraces e vi do un consiglio, tutte le volte che vi capitasse di andare in quel meraviglioso luogo che è l'Alta Valpadia e passate da Pedraces, non dimenticate di fermarvi al Granander e di fare un salutino alla persona che è qui accanto a me, ovvero il grande chef. Grande di statura. Grande di statura, ma grande, io ho gusato i cibi, per cui grande totalmente. E come si chiama questo grande chef? Io sono Andrea Arsara, nativo di qui, dell'Alta Badia, ho avuto la fortuna di poter crescere in un posto meraviglioso come l'Alta di genitori come lei ha avuto, tra l'altro il padre, e che anche lui era un grande chef. Vedete, questo signore così che si presenta sotto tono in genere, tutti i grandi si presentano sotto tono, non sono impettiti, non fanno gli arroganti, eccetera, questo signore ha deciso che lui non vuole entrare in gara. Cioè, le tre stelle, le quattro stelle, le sei stelle, le gare Michelin, le altre gare, eccetera, non gli appartengono, perché lui fa della buona e ottima cucina. E come si suol dire in genere, quando le cose non sono così massificate, sono sempre più preziose. Beh, adesso, diciamo, noi, il nostro lavoro, la fortuna è di avere un lavoro che è una passione. La passione è già nata da piccolo, l'ha tramandata la nonna, la nonna papà, papà a me, ma anch'io dalla nonna ho ancora avuto l'opportunità di imparare molto, di imparare più che altro le cose semplici, di quelle che secondo me negli ultimi anni la cucina è andata un po' a perdere, no? Perché tra fumi, fumetti che ci sono stati venduti, è secondo me ora di ritornare di nuovo a una cucina vera, a una cucina sincera, dico io sempre, no? Sincera perché vedo, succede anche a me spesso quando vado in giro, di trovare nel piatto quello che non c'è o quello che magari uno vorrebbe far credere che ci sia che poi non c'è. Io però sono sempre stato del parere che la cucina più semplice che è, migliore è e più successo porta. Comunque è anche una cosa che papà mi ha sempre detto, fai una cucina semplice avrai successo. Io adesso non parlo di successo ma posso dire che, diciamo, ultimamente magari siamo riusciti a muovere qualcosa qui nel nostro piccolo, anche nella valle, perché noi, diciamo, lavoriamo tanto con i prodotti locali, diciamo, ecco, usando quello che madre natura ci regala. Certo, quello che ora sta diventando di moda, mi raccomando, lavoriamo sempre con i prodotti locali, lavoriamo con i prodotti a chilometro zero, eccetera, tu lo stavi praticando da tempo e tuo padre bene, la praticava, la praticavate a tempo. Guarda un po' in camera per farti vedere perché è un buon ragazzo, Andrea. No, magari parlando di chilometro zero, io, cioè, chilometro zero non è che sono tanto, io devo dire, chilometro, sono più che il chilometro vero, ecco, questo è il mio amico Matteo Mitullio che a suo tempo era uscito con questa cosa qua, che lui ha già detto io ci credo nel chilometro vero, non nel chilometro zero, sono anch'io di questo parere, perché alla fin fine i prodotti ne abbiamo in tutta Italia eccellenti e perché non usare un gambero che arriva dalla Sicilia piuttosto che uno arriva da non so dove, no? Però io sono anche di quel parere lì che la materia prima deve essere eccellente, poi dopo noi come cuochi non sta a far tanto, diciamo, per rendere il piatto che sia una cosa fuori del normale. A me mi ha detto una volta un ispettore di una guida, ricordati Andrea, che fare le cose semplici è molto più difficile che fare quelle complicate. Magari pensandoci, analizzando la frase che mi ha detto, ha anche ragione perché purtroppo noi ci lasciamo anche tanto prendere dalle mode, da questi lanci che vengono fatti di anno in anno sulla cucina, ecco, adesso va la polverina piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, però io devo dire, ho sempre cercato sì di stare all'avanguardia con i piatti modificandoli, però non dimenticando mai il territorio, ecco, perché è una cosa che mi è stata insegnata. Qui siamo tra i ladini e allora dico i ladini, che cosa possono consigliare gastronomicamente al resto degli italiani? Ma sì, la nostra cucina è una cucina senz'altro molto buona, però è anche una cucina molto pesante, però diciamo, con i metodi e le tecniche che abbiamo il giorno d'oggi, poi si può anche rendere una cucina leggera, che nonostante sia una cucina pesante già di per sé, diciamo, però, ecco, cerchiamo di farla in una maniera che, diciamo, uno quando venga a gustare i nostri piatti che si alzi anche leggero da tavola. Qual è stato il momento in cui, io ti do del tu perché, ma certo, a me non ci mancheremmo, ma dove? Io ti do del tu, ma dico, qual è stato il momento in cui, accanto a tuo padre, hai imparato ad entrare nei segreti della cucina e poi hai detto, poi là, a questo punto mi sono laureato anch'io chef. C'è un momento, un episodio, una soddisfazione particolare? No, ma diciamo è tutto nato gradualmente sta cosa qua, è una cosa che è nata pian pianino, step by step, diciamo, succede anche a me parecchie volte ogni tanto, specialmente al giorno d'oggi, di sentire, ah, mio figlio ha fatto la scuola al berghiera e adesso è chef. Chef, dico sempre che è un po' una parola di moda adesso, no? L'importante è farsi la gavetta e io dico che ogni tanto anche la gavetta un po' dura fa bene perché purtroppo il nostro lavoro è un lavoro complicato, un lavoro duro, però è un lavoro che gratifica tanto, è un gran lavoro, è un lavoro che porta anche tanta pazienza, però diciamo è un lavoro che ti fa anche conoscere il mondo perché chiaramente dove c'è mangiare, dove c'è bere, la gente affluisce facilmente, ti viene anche facilmente a cercare ed è anche bello che perché poi si conoscono tante tante persone che poi vengono in casa, ti raccontano tante cose, così scopri anche il mondo, scopri altre culture, è un lavoro che ti dà la possibilità di viaggiare il mondo guadagnando, l'ho sempre detto perché l'ho fatto anch'io, magari alle volte anche poco, però diciamo abbiamo avuto la fortuna di portare a casa gran ricchezza, gran ricchezza per me e per la mia vita, che mi ha insegnato diciamo che il mondo è rotondo e gira e non sta fermo, perciò questo sicuramente per me è stata una gran scuola come è stata quella di papà e degli altri grandi chef che ho avuto il piacere di conoscere e di lavorare con loro perché io devo anche dire una cosa, sono stato fortunato e sono anche ragazzo abbastanza fortunato, cioè sono tanto fortunato devo dire, perché ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste nella mia vita fino adesso, quelle che mi hanno sempre dato anche tanto sostegno, ho avuto la sfortuna di perdere papà abbastanza presto, però ho avuto anche la fortuna di avere poi quella gente dietro che mi ha coperto le spalle, nel senso che mi ha sempre incitato nel mio lavoro dicendo devi andare avanti, hai la potenzialità di farlo, continua su questa strada e diciamo anche con la sincerità che ne ho parlato anche prima, ho sempre cercato di esserlo anche, non solo di raccontare una storia che non è, perciò mi ritengo il fortunato da quel lato lì, proprio perché questo mi ha portato a me diciamo alla fine un gran bagaglio di esperienza che tuttora adesso posso portare a frutto e che diciamo non è che voglio vantarmi, però abbiamo la fortuna di avere una struttura che lavora a gonfie vele, la richiesta purtroppo per noi è tanta che non riusciamo di soddisfare, da un lato è bellissimo perché dici è bella tanta gente vuole venire a provare a trovarci, però dall'altro lato c'è anche il lato negativo che purtroppo dobbiamo dire anche spesso di no, che il posto non c'è, il tavolo non c'è. Per forza, siamo di fronte a un gioiello prezioso, i gioielli sono rari, per venire a mangiare dovete sapere che al Granander si può venire, ci sono delle splendide camere, l'atmosfera è così bella, è così semplicemente familiare ma di alto livello e di buon gusto che uno entra in una bolla di piacevolezza, poi e quindi si mangia ogni giorno, si mangia egregiamente eccetera. Poi c'è un angolino della struttura che si chiama la stua, no? Sì. Donde ci sono quattro tavolini, se lo sbaglio. Questo è il nostro ristorante gourmet, è aperto agli esterni, che diciamo è una camera che ha una storia, una storia perché c'è vissuta la nonna, c'è nato papà, c'è nato la zia, c'è vissuto il nonno, come in tutte le famiglie, era luogo di scambio, era luogo di ritrovo, era luogo di stare insieme. la stube, nelle nostre piccole case qui nelle vallate ladine d'inverno quando faceva tanto freddo era l'unico posto riscaldato e si faceva gruppo lì, si faceva unione lì perché ci si incontrava lì, ci stava lì a passare le giornate, inverno quando faceva freddo il lavoro era diciamo quello che era, lavoravano un po' nel bosco e se no più di tot, il turismo non c'era ancora a suo tempo diciamo. però in questo, in questo ambiente delizioso, rimasto tale e quale eccetera, si possono mangiare delle cose eccezionali. Questo lo dice lei perché ha mangiato, non mi fa piacere. Esatto, realizzate anche se non sbaglio, tu hai lo spirito del gruppo, di squadra, mi sembra che tu creda nel team. Ma io ho sempre detto, un team in cucina è come una squadra di calcio, o buttiamo la palla tutti nella stessa porta e facciamo gol e vinciamo, o hai la sfortuna di avere qualcuno che te la butta contro e faccia molto gol e allora non viaggia. Sicuramente diciamo, oltre al lavoro in cucina ma il gran lavoro, il gran tempo che noi qui in casa cerchiamo di spendere proprio quello per i collaboratori perché alla fine io da solo o noi da soli in famiglia facciamo poco, abbiamo bisogno di questi ragazzi giovani che sono volenterosi e hanno tanta voglia di fare perché io dico, io la mia strada e l'esperienza in giro per il mondo l'ho fatta finché sono stato diciamo giovane sotto virgolette e spero di esserlo ancora, per a lungo, almeno così crediamo, però adesso diciamo sì abbiamo le occasioni di poter andare a manifestazioni che lì poi incontri i colleghi, scambia le idee così e impari, però devo dire che anche dall'altro lato ho la fortuna di avere tanti ragazzi che passano qui in cucina che arrivano da grandi nomi, da grandi cucine che poi sono loro che portano da noi nel team, ma guarda questo l'ho visto fare così, ma guarda questo l'ho visto fare così e queste sono cose che fanno tanto riflettere, fanno riflettere perché poi ognuno mette del suo e mettendono del suo e abbiamo diciamo abbiamo cercato anche di portare un'armonia nel team che sia produttiva, sicuramente non è facile però questo proprio diciamo sono poche volte che mi vanto, ma questa è una volta che mi vanto che dico Dio, c'è riuscito, è riuscito perché abbiamo una squadra che fa gol. Vedete amici questo è un altro segnale di quando una persona è grande, perché la generosità di poter insegnare ad altri quello che tu sai anziché rinchiudersi in questa gelosia, i grandi segreti eccetera, è il sintomo di grandezza nello stesso tempo di concessione ai più giovani di potersi, di poter crescere, di potersi esprimere. Ma questo è l'importante, perché se tu arrivi in una cucina e ti viene sempre detto di no a un certo punto dici ma arrivederci, grazie. I ragazzi che sono qui, sono qui da anni ormai, che lavorano con me, per quello abbiamo anche fatto grande squadra. Io mi auguro che rimangano ancora per un po' di tempo perché o comunque se qualche d'uno io capisco, voglio fare altre esperienze, però di avere un rimpiazzo di nuovo tale quale e l'importante è questo, l'importante per fare, perché la cosa riesca bene è fondamentale secondo me e per quello abbiamo anche dato e cercato di dare tanto in questo lato qui, perché sì, un conto è giusto avere i prodotti buoni, avere questo e tutto quell'altro, ma quello lo può avere lei come lo posso avere io come lo può avere quell'altro, perché lì si tratta solo di una questione di spesa, però costruire una cosa così, questo non è facile né per me né per lei né per gli altri, uno ha la fortuna che lì che esca e l'altro invece no. Siccome tu sei una persona che non è che se ne sta seduta in panciole e continuamente creativo, chissà ci sarà qualcosa che ancora non sei riuscito a realizzare o qualche cosa che vorresti realizzare è ancora un sogno nel cassetto. Di sogni ce ne sono tanti a dire la verità, il più grande però è quello che rimane sempre ancora alla salute, quella deve rimanere davanti agli occhi di tutti, perché possiamo avere una gran squadra però se poi manca la salute da uno all'altro si fa fatica, perde un ingranaggio al macchinario, perciò io dico sempre ogni giorno quando mi alzo alle 5.45 che vengo per fare le colazioni, scendo ste scale della casa e ringrazio il Signore, penso ho potuto alzarmi, ho di nuovo una giornata avanti che mi aspetta, speriamo che sia buona e la sera ci si stende tranquillamente anche con un bicchiere di vino, facendo anche sempre il gruppo coi ragazzi, perché io lo trovo fondamentale che la sera è giusto, quando c'è da lavorare lavoriamo, tutti stanno zitti, testa bassa e lavoriamo, però poi c'è anche quei momenti di svago che dici stasera tutti in terrazza, ci sediamo a un tavolo e poi da lì, ecco proprio da lì escono le belle cose, perché poi si discute, escono le idee di un nuovo piatto, anche in altre, diciamo io cerco anche di trovare tanto spazio per la famiglia, perché alla fine, diciamo, perché tutto il tutto riesca, che tutto funzioni, devi avere anche dietro una famiglia che ti appoggi, tanti miei colleghi non hanno la fortuna di avere una cosa del genere, perché io qui ho un tetto e lì c'è dentro tutto, c'è il ristorante, c'è la famiglia, c'è la moglie, c'è la mamma, ci sono i collaboratori, c'è tutto, è tutto in tutta questa scatola lì, devi fare due passi e arriva da un angolo all'altro, invece ho dei colleghi che fanno il lavoro, sono lì, la famiglia la vedono poco, perché chiaramente sono impegnati nel lavoro e questo va fino a un certo punto, a un certo punto poi si spegne la candela e io ho detto anche, spesso che parliamo di queste cose, lo dico a tutti, la fortuna grande è di avere tutto sotto un tetto, perciò fiorisce il fiore bene e si riesce anche a concimarlo bene, poi l'altra cosa è ricavarsi il tempo per se stessi e ogni tanto dire ok oggi, momento ragazzi, per piacere finite voi, io me ne vado, vado via un po' prima, vado a farmi il giro nel bosco, sapori, sentori, profumi, le idee lì anche si arricchiscono di nuovo e si ritorna a casa carichi e motivati per portare qualcosa di nuovo sul piatto, diciamo, ecco, questa non è un trucco, non è una formula, è, è una cosa che è e che a me porta tanto e che funziona così. Avete capito amici? Se volete trascorrere alcuni giorni in Alta Valbadia, non dimenticate, quando passate da Pedrances c'è un'insegna, l'hotel Grand Under, tre stelle super, quando è che arriveranno le quattro? Non arriveranno mai, no, non arriveranno mai, io lo voglio piccolo, mio, mio, che posso fare quello che voglio io, no? E ci possiamo giocare, perché alla fine questo è stato un giocattolo che è stato creato, è stato creato da papà, che è stato regalato a noi e adesso che noi cerchiamo di portarlo avanti, sicuramente non sono momenti a volte facili, però è un giocattolo, veramente lo giochi da una mano all'altra come vuoi tu e lo fai ballare e questo è il bello. Grazie Andrea, grazie, grazie a voi, grazie all'intervista, arrivederci, alla prossima, vi aspettiamo!